L'apertura del nostro notiziario ci porta a parlare della scomparsa improvvisa del papà del governatore della regione Abruzzo, Marco Marsilio, che è venuto a mancare appunto questa mattina. Luigi Marsilio, papà del governatore, espirato nella sua abitazione a Tocco da Casauria. A darne notizia, è stato questa mattina lo staff del presidente, l'alpino Luigi Marsilio è andato avanti, lo accolga il signore delle cime. Un grazie sentito per la partecipazione al nostro dolore. Sono queste le parole che il presidente Marco Marsilio ha affidato alla sua pagina Facebook. Tantissimi messaggi di cordoglio che in questo momento continuano anche ad arrivare da parte degli esponenti del mondo politico, delle istituzioni, di amministratori, esponenti dell'associazionismo e tanto altro. Dalla nostra testata e dall'emittente Reteotto sentite condoglianze al presidente Marsilio e alla sua famiglia. I funerali di Luigi Marsilio si terranno domani mattina alle ore 11 nel convento di Santa Maria del Paradiso, incontrata osservanza a Tocco da Casauria.